buongiorno ragazzi buongiorno, come state? vi vedete? stamattina sono sul lungomare di Napoli di Gizzuoli, un posto meraviglioso che potete vedere c'è una brezza meravigliosa e ho deciso di condividere con voi un segreto sarà una diretta breve però era da tanto che volevo dirvi questa cosa allora come sapete appunto mi occupo di difendibilità di aiuto le donne a diventare più sicure di sé con più autostima, più magnetiche e mi occupo anche di di angeli come sapete sono l'avettrice anche di registri a caci ci mi piace molto indagare il mondo del non visibile e ho scoperto una cosa che in realtà avevo sempre pensato buongiorno chiunque tu sia spero di qua sotto che sei scusate un po' di non so se tante volte ti capita di diciamo mi ricordo di raccontare brevemente cosa succedeva a me quando ero più piccola o comunque non molto tempo fa diciamo che vivevo molto male nel senso che vivevo con questa sempre ansiosa sempre preoccupata c'erano dei periodi mi ricordo all'università quando andavo quando venivo con l'università a Napoli addirittura avevo paura di prendere il treno di prendere la metropolitana avevo paura di andare a fare gli esami avevo gli incubi per tutta la settimana per quello che sarebbe successo poi nella stazione di un'interstata avevo paura di essere preoccupata insomma vivevo costantemente nella paura e nell'ansia e nell'angoscia e e come ero? ero non ero non si vive non si vive bene quando si vive con la paura con l'ansia addosso no? cioè penso che mi puoi capire e e poi un giorno che cosa è successo? no? molto tempo fa ho scoperto il fantastico mondo degli angeli no? ho scoperto ho iniziato ad avvicinarmi agli angeli perché grazie a un libro perché avevo questo avevo bisogno di capire chi fossi veramente e di esprimere veramente me stessa chi ero io di esprimere soprattutto i miei bisogni e volevo fondamentalmente smetterla di vivere con l'ansia con la paura e e anche di farmi un po' controllare dagli altri perché quando noi non siamo sicure di noi stessi non ci conosciamo non sappiamo bene chi siamo fondamentalmente non sappiamo nemmeno noi cosa vogliamo e quindi ci lasciamo ci lasciamo condizionare dalle volontà degli altri no? mi sentite? che so qui comunque sul mare ho messo anche gli auricolari così mi potete sentire meglio però non so se mi sentite bene scriverli qua sotto se mi sentite e quindi che cosa stavo facendo che stavo cioè stavo vivendo una vita silenziosa una vita anche a livello di relazioni non sapevo nemmeno io che cosa volessi sinceramente e i partner che sceglievo praticamente facevano un po' il cavolo nel senso mi lasciavo guidare dai mi lasciavo guidare da loro oppure sceglievo persone che non erano che non erano quello che io volevo cioè semplicemente per non rimanere da sola per paura di non rimanere da sola e un giorno mi ero stufata e così ho incontrato questo libro si chiama gli angeli in te che è bellissimo su cui ho fatto anche un videocorso se vuoi poi ti metto il link che è bellissimo questo videocorso perché racconta proprio di come esprimere se stessi senza paura e di come essere assertivi però essere come sempre il mare eccolo e bene che vi vi farò vedere poi mi piace eri io appena vengo a Napoli mi rifugio qua e insomma ho incontrato questo libro ne ho fatto un videocorso proprio perché ho messo tutta la mia esperienza e ho imparato ho imparato ad esprimere quello che io voglio so che essendo un essere molto sensibile mi lascio travolgere dagli altri dagli eventi mettevo sempre a primo posto gli altri se qualcuno mi chiamava e lasciavo perdere quello che stavo facendo e lo andavo ad aiutare così mi stavo facendo anche risucchiare molte energie quindi vabbè tipo la parentesi la aiuto quindi ho fatto questo corso molto bello se vuoi ti ripeto però il punto che io voglio toccare qui è un altro cioè praticamente grazie a te che cosa ho capito ho capito che se volevo diciamo avere più autostima di me se volevo essere più sicura di me non è che potevo contare solo su di me cioè sulla mia sulla mia mente sulle mie forze no perché comunque ho scoperto di essere umana di essere molto fragile di essere molto debole di avere molte fragilità molte cose che nemmeno mi piacevano di me io da sola non riuscivo ad accettarle e allora ho iniziato questa ricerca e mi sono apparsi loro i miei angeli ed è stato davvero davvero bello perché da quel momento in poi ho iniziato veramente a diventare a capire chi fossi io veramente a non accettare più qualsiasi cosa nella mia vita qualsiasi persona a fare delle selezioni ecco a non svalutarmi a non offrirmi è una lo so non è non è non sto parlando di una chiusura di cuore ma sto parlando del fatto che molte persone soprattutto noi angeli di arveni come mi piace chiamarci persone empatiche come vuoi tu spesso siamo troppo per gli altri nel senso che siamo troppo sbilanciati sbilanciati verso gli altri e a noi non ci pensiamo mai e nella mia vita ho voluto cercare di mettere questo equilibrio e in questo modo ho scoperto che la fidu che la prima cosa che ti rende una persona magnetica e attraente e è sicura di sé perché questo fondamentalmente è quello che ci manca la sicurezza in noi stessi è proprio l'abbandonarsi l'affidarsi questa è la prima caratteristica di una persona magnetica una persona che va in giro che è sicura di sé secondo voi perché è così sicura ve lo chiedo a voi perché è così sicura che cosa fa che cosa rende una persona magnetica così attraente perché è sicura di sé giusto e questa sua sicurezza da dove la prende secondo voi la prende dalla sua mente dalle sue forze o da dove io personalmente l'ho presa dagli angeli dalla fede che io ho nei miei angeli il diverso io il burda chiamalo come vuoi tu però in particolare dai miei angeli perché con loro io sono riuscita a stabilire una comunicazione molto forte tant'è vero che proprio ieri stavo raccontando a mia mamma che quest'estate mi sono successi due episodi divertenti perché poi gli angeli sono dei pazzacchini gli piace giocare gli piace ridere non sono quelle entità serie così che stanno sempre riaggiudicati assolutamente e non gli angeli non è mai e stavo mi ricordo che stavo fuori il terrasso di casa mia stavo facendo colazione a un certo punto ho deciso di chiamarli ho detto adesso fatemi vedere che ci siete datemi un segno tangibile che siete qui con me e così è come se dentro di me avessi voluto metterli alla prova no? allora l'ho chiamato e ho detto fatemi sapere se ci siete non ho nemmeno finito di dire fatemi sapere se ci siete a un certo punto vicino a casa mia stavano facendo dei lavori di restauro del comune del paese a un certo punto si sente arrivare una voce da là dice che c'è? sto qua! ma proprio forte cioè proprio anche in dialetto io io là non ce la facevo cioè sono morta dalle risate ho detto no aspetta ma davvero all'inizio non avevo collegato perché ho detto cioè sai quelle cose che ti succedono così io non te le aspetti ovviamente io non mi aspettavo niente di tutto cioè non è che mi aspettavo e invece quelli se ne sono usciti dice che è proprio urlando che c'è? guarda che sto qua che chiama? cioè è così ma non è che diciamo questi muratori che stavano lì a lavorare tutti i giorni non mai alzano la voce non li senti mai cioè stanno lì tranquilli e lavorano e invece questi hanno proprio detto cioè proprio io ho detto cioè proprio in quel momento non è che dieci minuti dopo no in quel momento in cui avevo chiesto cioè è fantastico è veramente cioè sono veramente dei pazzi questi qua e e già là ho detto vabbè dai non lo so non ci volevo credere però era troppo strano poi mi è successo un'altra volta praticamente stavo con una mia amica stavamo questa mia amica stava vedendo un locale per dove diciamo doveva spostarsi col suo magazzino quindi stavamo stava parlando insomma con un affittuario per vedere questo nuovo locale dove sarebbero trasferiti no? a un certo punto io stavo pensando agli angeli non so perché a un certo punto a me mi viene di connettermi con loro perché comunque li sto studiando sto leggendo tanti libri eccetera quindi mi viene spesso il loro pensiero di chiamarli allora li ho chiamati e ho detto adesso che c'era un posto buio non c'era una luce non c'era nessuno non sarebbe potuto succedere nulla io per questo li ho messi alla prova no? e allora ho detto adesso cioè se veramente esistete fatemi vedere se ci state anche qua anche in questo posto sperduto dove non può succedere nulla non finisco nemmeno di dire questa parola a un certo punto po 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 esplodono dei fuochi d'artificio là dietro dietro questo stabile cioè durano tre secondi po 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 fine io così no non ci posso credere cioè non so se riesco a trasmettervi l'assurdo di questa situazione cioè si sono manifestati praticamente tramite dei fuochi d'artificio che non stava non era nessuna festa non stava scritto da nessuna parte che dovevano esplodere questi fuochi d'artificio così all'improvviso capito? allora là io ho detto va bene dai mi arrendo e poi era successo tra l'altro a poco mi sembra o nella stessa giornata era successo oppure a distanza di pochi giorni allora io lì ho detto basta non vi metto più alla prova ho capito che esistete e e queste cose a me mi danno molto molta fiducia molta cioè io qualsiasi qualsiasi problema qualsiasi cosa io li chiamo e loro vengono e questo questo affidarsi questo totale questa totale fiducia no? che poi ti rende una persona veramente magnetica perché ti rende sicura di te sei in non ne so ti può fare niente puoi andare in giro per il mondo e affidarti a loro semplicemente ovviamente non è che cioè non è che in modo devi andare nel Bronx di Manhattan in mezzo ai nei quartieri più assurdi da sola cioè non è che ti devi andare a mettere nei guai che loro dicono sempre che comunque siamo noi con le nostre scelte a crearci la nostra realtà però quando ti senti uno sconforto quando senti un bisogno di aiuto molto spesso basta che li chiami chiami il tuo angelo custode e lui arriva cioè ti danno subito una mano loro aspettano soltanto che tu li chiami capito? e questo ti farà diventare anche una donna più sicura di te molto più magnetica perché le persone magnetiche sono persone sicure di sé ma non di sé di sé di sé di sé di essere sostenute ti piace questo discorso non lo so mi è venuto così e ho voluto donartelo così come mi è venuto scrivimi qua sotto se anche tu comunichi con i tuoi angeli oppure se ti è successo qualcosa del genere qualche esperienza simile che le hai chiamati e subito sono venuti oppure come tu comunichi con loro come appaiono a te nella tua vita ok? ti do un bacione buon sabato grazie a tutti